Uccisione confermata. Prendi le piastrine per confermare le uccisioni. Cambio caricatore. Copritemi. Controllo perso. Abbiamo il controllo. Assetto. Andiamo a ricaricare. Uccisione confermata. Uccisione confermata. U.A.V. Alleato in sorvolo. Uccisione confermata. Ricognizione U.A.V. in attesa. U.A.V. Alleato online. Uccisione confermata. Uccisione confermata. Versaglio attento. Uccisione confermata. Granata pronta. Uccisione confermata. Uccisione confermata. U.A.V. Alleato in sorvolo. U.A.V. pronto. c'è qualcuno l'ho scomerto uccisione confermata uccisione confermata uccisione confermata cambio caricatore uavv alleato in sorvolo uccisione confermata uccisione confermata uccisione confermata ricognizione uav in attesa uccisione confermata uavv alleato in sorvolo approvvigionamento in campo uccisione confermata 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 Possessione confermata. UAV alleato online. Uccisione confermata. Eccellente, Atlas. Uccisione confermata.